Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi unboxing, unboxing, come cazzo parlo? Che si sta facendo? Attimo l'immagine di Dio. Ah, perisco. Esageratissimo, nel senso che sbustiamo un altro età del sovrano con età del sovrano con età del sovrano, con età del sovrano, con età del sovrano, con età del sovrano. Yeah. Allora, però, aspetti, questo sono sicuro che sono età del sovrano, questo uguale. Questo in realtà non lo so perché è tipo un pacchetto sorpresa. Ah, cos'è qui? Oh, ci sono due, no, ci sono i... Ah, ok, ecco, ma sono comunque da età del sovrano. Ah, non tutti, però. Penso che questa sia... No, queste sono... Cos'è quello che vuol dire? Cos'è questa è questa è la fuffetta? Ah, sì. Anche questo c'è la fuffetta? Questi sono altri pacchetti random, così. Ok, diciamo, le persone non lo lasciamo. Due, 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 due... Ok, spostiamo prima loro. Eh sì, quello di me. Ma con due lenti leggendari. Allora, ragazzi, prima sposteremo con l'anti leggendari, giusteranno come così, e poi spostiamo invece... Tutto età del sovrano. Pronta? Vai. Vai. Aspetta, prima di continuare col video, voglio ringraziare il nostro sponsor, la Tirata del Fumetto. Potete trovare da loro tutti i prodotti sigillati, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, One Piece. E con il codice sconto Mark riceverete un buono sconto dal 7 al 10%. In più, sopra 60 euro la spedizione gratuita. Molto bello lo sfondo di Celestia. No, quello è il tappetino mio. Allora, non facciamo una boxing match, perché in realtà... Votate nei commenti, qual è il tappetino più bello? Cioè, o il suo, 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 o il suo. E dicevo, lo facciamo il, la boxing match, perché vogliamo, in realtà, sbustare roba, che è? Ah, per l'archetipo di Abelestare, quindi... Di Abelestare, ok, di Serpente. Sì, a parte qui, che ci troveremo... Che c'è qui? Qui mi sembra che ci sono... Roba Vulcanic. Ah, è vero, quelli pugili, qualche cosa. E pugili incredibili, altri gosci. Niente, qua fuffe. Giro. Regina. Pugine. Spiriti. Pugine è un dopido montato. Ah, carino. Questi. Ma cos'è che c'è la testa di gallina, quello? È probabile. E invece l'ultima... No, penultima. Bella. Ah, ok, qui c'è la costa. È vero, c'è la Salamagna. Qui c'è la Salamagna Agosto. Che è un link, questa è una magia. Niente. Qui dobbiamo però la Salamagna Agosto. Allora, vai. Numero. Nada. Regina. Nada. Salamagna Zella. Eh, è troppo. Pugile, acceleratore, eruzione volcanica. Ah, pensavo che era l'ultima, invece la più ultima. Numero 79. Pugile Indomito. Pugile Indomito. Salamagna Stallon Miraggio. Destino Pavo Volcanico. Bello. Servitore Volcanico. No, sparitore. Questo è un link. Eh, no, nexiser. Non è da 79. Infatti, sarà sicuramente fugile. Ma sta costa l'abbiamo sbostata una volta senza far video. No, ci sta ponendo. Come è sta situazione? In realtà è smintata quella quella, dai. Smitata quella quella, come no? Eruzione Salamagna. Magia. Trescata bruciata. Un mostro. Ok, un mostro fuoco. Tanto. Allora, reggito da magna. Ricarica acceleratore. Tantuario. Salamagna rotante. Magia. Carica domani. Niente. Dai, scusca sta costa. Scusca sta costa, forza. Dai, dai, dai. Questa, no? Vai. No, è troppo, troppo leggera. Vabbè? Sì, è troppo leggera. Vabbè. Forma si sente dal peso. Eh, certo. Fugile indomido. Fugile indomido. Trascendenza. Salamagna di fuoco. Ma che bello. Oh, è un fermo. Adesso la magna di fuoco. Bella sì, cazzo. Salamagna di fuoco. Ma atto, allora. Vai. Busta. Aspetta qui, dell'ultimo? Eh, no. È uscita questa. Vediamo se è smintata. No, sembra, sembra interno. Sì, è sempre in consiglio. Trascendenza. Scolpo contraattacco. Fugile indomido. E quindi è questa quella che è buona. Teoricamente la penultima. Sì, la penultima. Salamagna, Stallo Miraggio e Salamagna al Mirage. Vabbè, al Mirage comunque, ma c'è un bordello. Acceleratore, velocità. Dai, post. Eccola. No. No. Ci siamo provato. Vabbè, oh, Salamagna l'abbiamo spostata. Ok, cominciamo con Ita del Soprano. Diciamo che i pacchetti scusi. Allora, dobbiamo trovare. I pacchetti, l'altro è il mio perché ho bussato una roba carina prima. Mi sembra giusto. Allora, S&P Little Night e... Ita Night. E roba... Vabbè, piccola maniere e roba di Abelstar. Di Abelstar. Allora, freccia, dolce, qualche cosa, Link. Occhi di serpente e frassino. Ah, bene, bene. Ok, io non so se ce l'hai... Ce l'ho, però lo... Te lo cambio? Te lo cambio. Ok. E io mi piove un dato, vai. Vado. Giro. Anime del re. Trai. Cavaliere saltellante. Il famoso cavaliere saltellante. Il famoso. Drago buco... Oh... Bello, Drago buco nero. Mamma mia, che bello. Immbustiamo subito. Subbilissimo. Scaduto di necoso, alba ogolo, vabbè. Conchiuti così. Madonna, brucia. Scandardigate. Brucia, vabbè. E vado con l'ultimo. Allora, intanto... Bello. Drago, qui va bene, lo stimo lo facciamo vedere, c'era anche il recupero del fuoco che non vale tantissimo, però ci serviva, quindi lo mettiamo. Allora, vado, eh. Spaglio percato, ufo lucio, ufo lucio, quattorno, guadregno, guadregno. T1, guattorno. Ah, l'armatura fortezza. Eh, l'hanno trovate una valanda. Eh, però che bella. Mi piace un sacco. Eologia, pienamente, prominenza, gioco di sì. Ok, andiamo con il box, andiamo con il box. Che poi questi sono tre pacchetti in realtà. Non so box. Vabbè. Sono sette tre pacchetti. Tre pacchetti. Perché dovevamo sprecare anche la carta, a volte che la plastica. Eh certo. Quindi tiè, mi sembra giusto che te ne avessi. Beh, voglio dire. Allora, c'è la sua trono a sto colletto. La proprietà che sono io è molto più alta. Grazie. Portanto, come ci sono i dati, sono i dati. Allora dai, famoso trick. Vai. Spaglio se mi arriva. Sono 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Servitore. Anello, Lillipop, Bambola, Stelle. Pupo Lucio. Ufo. Scino vabbè. No, c'è un'altra. Eccola l'ultima. L'ultima. Mostro. 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 Oh, è secret. Oh, mostro la scurità sigla. Eh, fanberga. Ah no, fanberga è fuoco. No, fanberga è fuoco. È un orus. No. Oh, è bellissima. È la print. L'abbiamo già spostata per usare il sbaglio? Sì, sì, sì. Vabbè, sono 10 ore di carta. Allora, 1, 2, 3, 4. Lo metto dietro. Lill qualcosa. Erugina. Scanner di carte. Prominenza. Wat Reigno. Jen? Jen. Wattecook. Wattecorco? Ah, non è l'ultima. Un altro Wattedonno. Magia. Magia, boh. Magia, Alex. Un'altra volta. Eh, speravo non ricercata. Vabbè, ma io penso che ormai questa monnezza la vogliamo pure... Sì, c'è ormai... Vabbè, sono l'ultima, sono l'ultima, faccela godere così. Magia. Dai, ricercata, dai, ricercata. No, non è ricercata. No, non è segretta. Ti prego. No, non è tutto a posto. È tutto a posto. Tutto a posto. Ma una ragazza se vuoi chiama tutto a posto. Qui andiamo veloci, andiamo veloci, andiamo veloci, è sempre la stessa roba. Mi sa che me ne manca una. Wattedonno. E l'ultima, eh? Mostro. Oscurità. Sovrano con i... Vabbè, bella. Sì, no, bufa. Sì, vabbè, però è bella. È bella. È una bellissima bufa. Noi ne abbiamo aperte talmente, dobbiamo avervi talmente tante che... È exisa quello sotto, eh. Ed è smintato. Guarda l'antica. Quindi probabilmente ha exisa, allora niente. Cioè, ormai con Typhoon... Diciamo, devo pensare, andiamo. Allora, nel miliare, vabbè. Ken, a te. Caduto, fuga, dolce, fido. Sfoglie, anima e io l'ultima. L'ultima, 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 l'ultima. Mostro. Mostro oscurità. È sì, Gretù. Di Abelstar, sì! Bella! Sì, cazzo! Sì, sì, la mia terza. Sì, la mia terza. Perfetto. Bombissima. Ed è buona gara nei pacchetti, quindi vuol dire che forse ci abbiamo la probabilità anche di sbustare un'altra. La mia terza di Abelstar. Perfetto, abbiamo completato il preset. Oh, bella sbustata. Allora. Bella sbustata. Adesso mancano il terzo a cercare, eh. Eh sì, e pure in flambergas. Ember flambergino, sì. Tre. Dulci Camaronzella. Mostro. Allora, un altro mostro. Allora, un altro di Abelstar. Fuoco. Occhi di serpente. Oh, bella, bella, ci ha, me lo cambio. Grazie. Vabbè. Vatta, buco, ufo, cavaliere saltellante e... Magì, no, tappula. Tappula. Protettore canopico. No, ti prego. Colpo del drago stellato. Trascendo qualche cosa. Affido. Spoglia il destino. Mostro. Mostro. Resto premo. E' quella ultima. Exis. Dai, Typhoon. Exis. Acqua. E' acqua. E' un TG. No, è un altro armadolo a cortezza. Bella, eh. Bella. Ok, è bella. Ma è bella. Allora, adesso, box. Allora, adesso voglio fare una cosa. Visto che solitamente prendo sempre il pacchetto che è stata per l'altra parte, adesso voglio prendere l'altro. Quindi quella della parte tua di là. Quindi voglio prendere questo. Voglio prendere questo. Ok. Vai. Ok. Sei pronto? Allora, una del biale è stata stata scartata. Cioè, giocata, quindi... Vai, 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 voglio una ricercata. Non sta mia ricercatone. Ricercata. Questa roba mia. Uno, due, tre, quattro. ricercata e poi c'è che ci serviva 3 o ma sono spoilerata ormai è un mostro è un orus cazzo che è un orus e anche questo è mio perché me la cambio a posto ricercata ricercata le stelle si allineano quattregno ultima sincro tg brutto tg falcione qualche cosa vabbè non so quanto vale perché ultra e non l'abbiamo mai sbustato allora 1,2,3 un altro genere ma cominciò a che c'è un po' il vomito di questi giorni e cani ricercata vai con la ricercata ti prego è magica vai ricercata o cosa della luce cosa la cosa della luce la meglio ricercata vabbè rombo sincrono vabbè 2,3,4 testine bushy qualche cosa ufolucio ma poi questo è ufficialmente ufolucio per me sì vabbè sgominamina anima questo è che si dice ma no mostro mostro luce guarda no è pendulino no vabbè basta vado la macchia a vedere schifo allora 1,2 questo è che sepivano 3 no trappolo no mi ha flashato malissimo la cica capito 1,2,3,4 queste sono le puffette giriamo cavaliere saltellante 4 trasciosauro guattetonno afidoxies l'ultima eh sì magia io sono due volte che sbustamo sto coso e sto box e flash ho la collettor dimmi che è ricercata non dite la luce no 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 non è ricercata dai dai su voglio la ricercata eh vatta 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 dai eh mostro dai 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 oh oh eh non può essere no ti prego sei un'altra di Abelstar cioè io ho vinto tutto non credo cioè non può essere ti prego ti prego dammi un'altra di Abelstar no no che cazzo è oh che bella cioè purtroppo è carina l'ho presa a sbustarla exis eh scusa esincro vabbè oh ciao Sigret ti prego questa taglia là certo ovviamente no uno due tre quattro e mi sa che tu si crede se ne siamo giocate un po' che? te ne siamo giocate un po' no non ci credo voglio fondare che è ricercata quatteregno tre supremo le stelle l'ultima l'ultima andrebbe bene pure sta magia voglio dire ultimo trappola due due poi è il peccato Silvea quattro niente non mi ricordo se ce lo vedo no ma cosa riesce solo così quindi sì sì due tre due 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 io ci sto sperando io ci sto sperando io ci sto sperando un po' l'ultima no scena qualcosa un altro grande di qua mostro mostro fuoco mostro fuoco attacco è roba no è roba tua no manco oh non so che cazzo è sto cicciolo qua via fuffa fuffa vabbè magari è consistente no sì c'è consistente che non serve un cazzo al momento o comunque a noi non serve niente allora non serve fusione fusione penso sia pendolo no non è pendolo vabbè ha qualcosa di buono questa carta beh qualcosa di buono ce l'ha no è carina bello che carina che è bello 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 appreggio le stelline papillon mostro mostro luce non lo voglio più vedere non li voglio più i pendolo è stato un errore non continuate a rimarciarci sopra io penso che non se ne rendano conto allora questo è un exisor che non è solo anticino vabbè come fermare avevamo costata pure la sua volta sì ma io penso che quest'altro te la tieni perché boh questa è una dende può essere utile non difficile vabbè uno due tre quattro un altro pen giriamo comunque dovrebbero assumermi per dare l'alimentare la luce della corretta alle alle parti in italiano no ho sbagliato sicuramente potrebbero assicurare lo spostamento la scurità contaminato di testina beh carina però bello sembra che bella sembra un occhio di serpente che bello che è pure queste non l'avamo mai sbustare infatti non la prima volta che la sbustano ci stanno perché veramente fuoco che vorremmo spostarle almeno altre almeno 12 per il mazzo che sono spoilerato incredibile ne l'ero dimenticato vero 4 spermocchio la in giro ma ne faccio un'altra io 1 2 3 vai dai ma le trappole c'è 4 e trappole che ne permane sono capito non c'hanno un sapore trasportato che era un battimento mostro ai mostro nostro poco è un altro 900 ma questo è un è uno di questi perciò lo chiede sapete buono va bene va bene 1 2 3 4 niente ovviamente 2 3 magia ma sono uscite le sigle io credo di sì dovrei cominciare a leggere queste cose però come il cazzo esatto quindi e noi ci troviamo sempre così che stiamo con l'ansia che magari non lo siamo oh meno male grazie amore ecco qua grazie grazie infinite questo è stato un ottimo sbustamento quasi meglio di 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 haberstar certo cioè è più rara questa che di haberstar effettivamente cioè non hai torto anche nell'alti due box abbiamo sbustato assurdo questa mai trovata 1 2 3 4 prendo io prendi te che cosa è? rubetta pronta? giro dolce camere d'artesante è l'ultimo? che così mostro 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 dentro dentro 2004-2006 è un orus è un orus happy che bello è proprio happy è proprio happy abbiamo sbustato più orus adesso che prima no dai la prima volta abbiamo sbustato tre carte orus abbiamo orus sono contento che non puntualizzi queste cose e che condividiamo tutto 1 2 3 4 comunque sbusti o non sbusti quello che sbusti è comunque roba mia eh questo con privetti visto che roba roba mia compro 1 2 3 polucio cosa nascondi polucio? mostro? fogo? sicuro? fogo? che cos'è? drago? ah è lo stesso che roba da qui è un drago porciano 4 affitto affitto? chi è? 3 oh fermati è una magia e va bene e fino a lì è una magia lo stiamo vedendo se sotto nascondeva la mostra no è veramente quello che è il contrario però non si è mai esce il trauma il trauma è lì sarcofago porca muttana che sbustare questo sarcofago cioè a lei? eh vabbè però questo l'hai comprato vabbè lo rivenderai eh per forza lo rivenderai sul tuo car master e ricordiamo ovviamente c'è sempre il link in descrizione ecco quindi insomma se volete che continuiamo a sbustare aria per cortesia finanziateci comprate la nostra comprate la nostra giro trasporta genna o basta o mi sape il pomido chiedere papillon vabbè facciamo solo le ultime quattro carte a me è fattibile vabbè facciamo tutto guardo intanto dovrebbe stare tipo qua la carta guardo voglio guardare a ferire ok guardo anch'io tre due uno un cazzo posso bestemmiare? ok perché? che cosa sei tu? allora diciamo che comunque dai non è andata io sono molto soddisfatta sì anch'io sono soddisfatta sono un paio di te è stata insomma belle sbustate carine mi vanno a completare il mazzo e quindi io sono molto e dobbiamo però andare a prendere una ricercata quindi ci serve una ricercata ragazzi ci serve una ricercata quindi se ci avete una ricercata che balanza che non usate i pepaccio l'indirizzo ma mandate e poi insomma vedo un bacetto ragazzi noi vi ringraziamo che siete stati con noi per quest'altro unboxing e volevo dire che visto che ci stiamo facendo maxi nuovi usciranno anche i deck profile certo e poi il 2 di quest'anno di novembre ovviamente uscirà al 21 lo sbustamento del nuovo posto che ancora noi non abbiamo quindi registreremo il 2 proprio quando li prendiamo esatto quindi raga bella grazie a tutti iscrivetevi al canale lasciate un commento ciao a tutti grazie a tutti